Hola a todos mis amores! Benvenuti e bentornati in questo nuovo vlog. Allora, nel video di oggi andremo a fare un po' di shopping al Parvaredale. Per chi non mi conoscesse, io sono Natalie e qui abbiamo Bellina e Grigno Beve. E adesso andremo a prendere un nostro amico e a prendere un giro, non lo so. Vi porto con me comunque nella giornata di oggi. Tra l'altro oggi non sono molto truccata, ho semplicemente messo un po' di eyeliner e mascara semplicemente perché ho l'occhio gonfio e avete presente il colazio che mi era uscito. era spalito, sembrava che fosse spalito, ma è uscito di nuovo. Ho l'occhio gonfio e mi sto mettendo le gocce. e adesso cerco di truccarmi di meno, però questo è il minimo che posso fare. e adesso andiamo a andare a vedere i nostri apparecchi. e per adesso ho preso solo questo che devo provare quindi non so ancora se lo prenderò o meno la messa amores allora abbiamo già comprato un po di cosine per me niente perché quel pantaloncino era una taglia 38 ma mi era gigante quindi non ho preso niente e oggi la spesa è stata principalmente infatti era il motivo per il quale siamo usciti qua e appunto per comprare delle cosine per il mio beve perché in vista del viaggio anche lui ovviamente non posso essere egoista in questo vorrei prendere tutto per me comunque anche lui ha speso i suoi soldini per prendersi delle maglie e dei pantaloni che poi vi farò vedere e l'abbiamo preso dalla terra nuova dove lavoravo prima e ovviamente dopo con calma vi farò vedere tutto quando saranno a casa quando sarò a casa e niente adesso entro un attimo da Teddy buon amore adesso siamo qua da Chiabi non so se conoscete questi negozi comunque io ho fatto alcune cosine per i miei piccolini cuginetti piccolini nipotini che sono a Cuba figli delle mie migliori amiche delle mie amiche con i quali sono cresciuta da Cuba e ho preso questi bancholuncini comunque dopo a casa vi faccio vedere con calma perché adesso non riesco ciao 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 Grazie a tutti. Appena usciti dal Ciligi, mi ho preso un po' di cosette, sempre per lui, e per me ho preso però una borsetta stra carina e un portafoglio, una borsetta rosa, eh sì, rosa, lilla, da abbinare a un vestito di Shane che mi deve arrivare. E' inguardabile, bella mia graffiata, adesso sono nervosa, peggio di una bestia, sto cercando di respirare, cioè guardate qua. Tanto adesso andiamo a mangiare o all'American Graffiti, che è di là, oppure all'Old Wild West, non lo so. Allora amori miei, siamo a casa. E siamo arrivati a casa, guardate la mia faccia, cioè mi ha fatto tre enormi graffi. Questa è la nuova postazione, lasciate stare i miei graffi per favore, perché già mi sento male per questo. E comunque fa un caldo, che si muore. Allora, delle cose per Cuba non ve le faccio vedere in questo video, perché appunto, come avevo già detto, sto facendo un video a parte. Adesso mi metto questa cosa. Allora vi faccio vedere velocemente quello che ha preso. Allora, qui abbiamo una canotta, semplice e nera, con questo lato molto smanicato, al prezzo di 7 euro. Stessa cosa qua. Ah no, scusate. Scusate, sorry. Questa qua è una maglia, al prezzo di 11,95 euro, da CVG al Palma Retail, stile Cuba. Poi, questa maglia, con questo stile un po' geometrico, ma un po' trasparente, un po' retinata, sempre da uomo ovviamente, al prezzo di 15,95 euro, sempre da CVG. Questo costume, pagato 10 euro, stessa cosa questo qua, blu. Il jeans, stile boyfriend e stile mamma. E questa camicia, a righe, semplice, ma molto fresca per l'estate, va bene. E infine, quest'altra canotta bianca. Questa canotta qua, bianca, semplice, un po' smanicata. E uguale l'abbiamo presa anche in nera. Poi non è finita qua, perché ha preso, dalla Terra Nova, ha preso questa maglia, molto bella, mi piace tantissimo. Ha il prezzo di 12 euro, 12 euro, molto 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 bella. Poi, la stessa maglia l'ha presa anche in bianco. Scusate se mi vedete un po' strana. Questa maglia l'ha presa anche in bianco. E qua abbiamo questa camicia, un po' rosa, ma che spacca, perché ha le palme. Vedete, è molto molto carina. Molto sobri, tra l'altro. Questo pantaloncino, comodo, sportivo. Questa maglia, molto bella, anche questa. Così. Anche questo è il prezzo di 12 euro, è sempre per la Terra Nova. Questa borsetta, semplice, di nessuna marca. L'ho presa da CVG, il negozio di Cinesia Parma, al Parma Retail. E il prezzo è di 17,99. Il colore, non so se potete apprezzare bene, ma comunque è un colore lilla. In vista dell'arrivo dei miei vestiti di Shein, nel quale ho ordinato un vestito lilla. E penso abbinarlo assolutamente con questa borsetta. Carina, piccola, che la puoi portare sia così e sia con la tracolla che ha all'interno. Eccola qua. Ho anche preso questi crunch per capelli, semplici. Io li uso tantissimo, questi cosi, infatti vedete, che ne ho uno qua. Niente, sono stra-innamorata della mia nuova borsetta. Non ve ne volevo l'ora di prendere una borsa. E tra l'altro anche da Shein, mi dovevano arrivare due borse nuove. Amori, adesso è ora di cena. Non vi ho più aggiornato perché abbiamo riposato in casa. E eravamo stanchissimi e io stamattina mi sono svegliata di 7 del mattino per pulire. Adesso siamo pronti per mangiare. Anche oggi cucina lui. Niente, sono distrutta.